La riflessione di oggi è sulla pace fiscale o condono, secondo del lato politico da quale guardiamo il problema. Non voglio entrare nel merito del provvedimento, ma valutare se la pace fiscale o il condono è eticamente corretto. Se penso ai grandi evasori, se penso a coloro che hanno portato i capitali all'estero e alle grandi aziende, evidentemente fagli risparmiare sulle tasse facendogli guadagnare milioni di euro, la cosa mi fa un po' incazzare. Però se approfondisco il ragionamento, se penso a chi sono gli evasori in Italia, non penso che siano solamente le grandi aziende, immagino tutti i piccoli imprenditori, tutti coloro che sono costretti ad inseguire il fisco per le piccole cartelle, per le piccole cose che semmai hanno dimenticato. Se penso a questo tipo di evasori, evidentemente no, la pace fiscale è eticamente corretta. Lo trovo giusto, lo trovo una mano che lo Stato tende al contribuente che si è trovato in qualche modo in difficoltà, al contribuente che qualche volta si è dimenticato di pagare l'imposta alla tassa e si è trovato una cartella esattoriale, una cartella di Equitalia ed è costretto a pagare molto di più perché ci sono interessi, perché ci sono tutta una serie di cose che in qualche modo ti fanno solamente arrabbiare. Quando penso a questo tipo di evasore, quando penso a questo tipo di contribuente, sono convinto che la pace fiscale non solo è un provvedimento corretto, ma credo che sia eticamente corretto ed è dovuto da questo Stato che ha un'alta contribuzione fiscale, noi siamo costretti a pagare tantissimo sia persone fisiche che imprenditori che tutte le mattine vanno al lavoro facendosi il culo così e sia quando penso alla quantità di tasse a cui noi siamo soggetti e sottoposti e quindi qualche volta ci possiamo anche dimenticare. Quindi sì alla pace fiscale. Grazie per la visione!